buongiorno a tutti sono paolo caramellino di by sport service troviamo in una sala di posizionamento da noi chiamata sala retool retool dà la possibilità di effettuare un posizionamento biomeccanico dinamico con l'asilo di telecamere 3d questo posizionamento è il sistema tecnologicamente più evoluto ed è utilizzato da gran parte delle squadre professionistiche quando arriva il cliente con la sua bicicletta noi prendiamo le misure della sua bicicletta le trasportiamo sul move una volta che il cliente è salito sul move passiamo alla parte più importante l'applicazione dei marchi grazie a tutti 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 Questi punti indicheranno gli angoli che ci forniranno i dati per il posizionamento.